Buongiorno a tutti, saluto e ringrazio il Commissario Europeo all'Agricoltura Wojciechowski, il Commissario all'Ambiente Sinchevicius per essere intervenuti a questa iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia, dal gruppo dei conservatori e riformisti europei nel Parlamento. Grazie ovviamente al nostro Pietro Friocchi per aver promosso l'iniziativa, a Nicola Procaccini che coordina il Dipartimento Ambiente di Fratelli d'Italia e saluto ovviamente tutti coloro che hanno portato il loro contributo. La conservazione del patrimonio naturale è un elemento fondamentale dell'identità politica di noi conservatori e consentitemelo, non c'è nulla di più di destra dell'ecologia. La destra ama l'ambiente perché ama il territorio, l'identità, la patria. Conservare l'ambiente vuol dire conservare e tramandare ai nostri figli i luoghi dove sono nati, farli conoscere e difenderli. Scruton diceva che l'ambientalismo è la quintessenza della causa conservatrice, l'esempio più vivo nel mondo di quel parternariato tra i morti, i vivi e i non ancora nati. Certo la nostra visione non si esaurisce negli slogan fini a se stessi tipici di certa sinistra. A differenza dell'ambientalismo ideologico noi non riteniamo che la presenza dell'uomo e delle sue attività sia in contrasto con la difesa dell'ambiente. Nella nostra visione l'uomo è il custode del creato che gode della bellezza in cui è immerso e sente il dovere esistenziale di proteggerla e consegnarla a chi gli sopravvivrà. Il nostro è un atteggiamento pragmatico e realistico che tiene insieme l'amore per la natura, la difesa dei nostri paesaggi e la sostenibilità degli ecosistemi con l'attività dell'uomo. Oggi la sfida che abbiamo davanti è coniugare ambiente e crescita economica. Crediamo che le imprese debbano essere accompagnate verso la transizione ecologica e su questo è giusto porsi degli obiettivi anche ambiziosi. A patto però che quegli obiettivi siano realistici. La transizione deve essere graduale, imporla a colpi di nuovi oneri alle aziende. È un errore che produce altra povertà, che produce perdita di posti di lavoro. Bisogna rimettere ordine negli incentivi sulle rinnovabili, investire nei carburanti alternativi, ma sempre nella logica della neutralità tecnologica e del mix energetico. La tecnologia può darci una grossa mano nel sostenere l'ambiente senza pregiudicare la qualità della vita e senza pregiudicare il benessere delle nostre esistenze. Mi fa molto piacere che oggi si faccia un esplicito riferimento al mondo rurale. È un macrocosmo nel quale l'uomo vive in perfetta armonia con la biodiversità che lo circonda, perché è da questa che trae il suo sostentamento. Spesso anche da diverse generazioni. Chi più del contadino, dell'allevatore, del cacciatore può essere mai interessato a difendere la natura in cui vive e opera? Nessuno. Anche qui una scelta vulgata radical chic tenta di contrapporre la natura all'uomo. È una guerra che a noi non appartiene. Esiste un'agricoltura di precisione che dobbiamo incentivare e sostenere perché migliora quantità e qualità dei nostri prodotti ortofrutticoli, garantendo contemporaneamente una riduzione nei consumi idrici e nell'uso dei fitofarmaci. E poi il paesaggio come fattore identitario e di attrattività turistica che va preservato senza alcun tipo di ideologismo. Sono tutti temi che i conservatori pongono da sempre e che continueranno a mettere al centro del dibattito anche in questa fase, soprattutto in questa fase. questo è il ruolo e questo è il nostro impegno. Vi ringrazio per questa iniziativa e vi auguro buon lavoro.